Grazie a tutti. Il programma ci ha raccontato lo stato dell'immondizia nel Lazio. Vorrei fare una domanda provocatoria, un parallelismo fra il Lazio e Campania. Il problema della Campania è dove vanno a finire i rifiuti, non credo che sia il problema della raccolta. O dell'educazione dei cittadini, lei oggi ha parlato anche di educazione dei cittadini. Ma sicuramente educazione. I cittadini vanno educati, però devi essere il primo a dare il segnale. Se praticamente lasci i rifiuti a terra, il cittadino dove lo butta? Se non trova il cassonetto vuoto, dove lo butta? Lo butta a terra. Di conseguenza il cittadino non è che è scorretto, non è educato perché comunque si parte male nella gestione del territorio. Quindi il fatto dice dove andiamo a buttarla. Loro hanno un termovalorizzatore singolo con più linee, voi avete più termovalorizzatori, ma non è solo il termovalorizzatore, è la discarica. Ma loro hanno un termovalorizzatore di recente costruzione, probabilmente a volte ha dei difetti e di malfunzionamento e non riesce a ricevere tutto il materiale che arriva. Di conseguenza hanno una parte che deve essere messa in discarica e oggi per le varie motivazioni le discariche non sono presenti o quelle che c'erano sono state chiuse. Di conseguenza il problema è scaricare il camion. Il camion si carica ma bisogna scaricarlo. Lei ieri ha dichiarato che il 65% auspicato di differenziata è un obiettivo raggiungibile ma con più tempo. De Magistris San Napoli addirittura in sei mesi voleva arrivare al 71%. Probabilmente si ha le economie per farlo e comunque la capacità e l'efficienza. Io non posso discutere cosa fa lui. Io dico cosa può fare Roma. Roma praticamente deve avere delle economie. Oggi siamo intorno al 20%. Noi stiamo al 24%. Per fine anno. E poi parliamo di volumi. Non è paragonabile Roma con Napoli. Noi oggi raccogliamo 4.000 tonnellate al giorno per 1.900.000 tonnellate l'anno. Napoli stiamo intorno alle 1.000, 1.200, 1.300 tonnellate al giorno. Perciò può essere più semplice fare una raccolta differenziata. Tutto va paragonato ovviamente con i cittadini, con la quantità dei cittadini e quindi con la produzione. La produzione dei cittadini, il territorio, l'estensione, la particolarità. Noi passiamo dal centro storico con le sue particolarità all'euro che ha i saloni ampi per mettere i loro rifiuti e quanto altro. Lei consideri che Ostia è paragonabile a Brescia? Come dimensione. Come dimensione e come popolazione. Forse come dimensione sì. Eppure più grande ma come popolazione. Pertanto ecco, va visto il contesto in cui viviamo. Noi parliamo di Roma. Roma nelle sue particolarità si sa organizzare in un certo modo. Oggi per arrivare a degli obiettivi che sono raggiungibili ma comunque se misurabili nel momento in cui ci deve essere un'economia. Oggi ci deve essere un equilibrio tra ciò che ha debito al cittadino che il risultato che devo sviluppare. Noi lo dimostriamo con l'equilibrio economico dell'azienda. In base alle economie che ci vengono date noi facciamo il massimo di quelle attività certificandole. Quindi il 65% è raggiungibile con una certa economia? Certo. Una certa disponibilità economica? Sì. D'altronde la tariffa è retta da una legge. Io devo ribaltare i costi. I costi devono essere verificati e il Comune lo fa. Se i costi sono giusti devono essere fatti pagare da qualcuno. O li paga il cittadino o li pagano a finanziamenti pubblici o comunque indirettamente li può pagare il Comune ma li metterà nella fiscalità generale. Da lì non si scappa. Non è che l'AMA può andare in passivo perché comunque l'AMA è una società per azione e non si può programmare il passivo. Questo è per legge. Andiamo in pareggio o comunque piccoli utili ma derivanti da altre attività che non sono quelle del territorio. Quindi non trovo che ci sia bisogno a questo punto di informare meglio di fare una maggior comunicazione verso i cittadini romani che invece tendono a dire piove a malatro. Nel senso che è sempre colpa dell'AMA per il cittadino. Io credo che pure questo il cittadino non è ben cosciente. Se si spiega al cittadino, noi facciamo attività di custom satisfaction che sono diverse da indagini così generiche non possiamo dire al cittadino il percepito. Dire che Roma è pulita, no, è sufficientemente pulita. Si può fare meglio. Però ecco, il cittadino collabora, fa roba del genere però deve sapere i suoi soldi come si spendono. Faccio un esempio. Madrid è molto più piccola di Roma, mi pare che un settimo. Siccome la pulizia della città non gliela fa pagare direttamente ma la mette nella fiscalità generale rende la città più pulita perché spende molto di più. Stiamo intorno ai 300 milioni l'anno. La quota parte della tariffa che il cittadino paga e che va alla pulizia della città stiamo intorno ai 150 milioni. Possiamo essere inefficienti quanto vuole ma 150 milioni di differenza si vede, no? Cioè se a me date 150 milioni di più sicuramente, pur essendo molto più grande la città 9.000 km di strada 70.000 cassonetti. Miracoli non se ne possono fare. Ma no, non parliamo di miracoli. Diciamo le realtà come sono. Poi, come ripeto, a me si mi danno tanti soldi se sono praticamente un amministratore oculato fa un rapporto costi-benefici se risponde bene, quelli sono. Noi vogliamo essere controllati e il Comune ci controlla c'è i miei certificatori di miracoli se sbagliamo qualcuno ce lo dica. Hai abbastanza occhi addosso. Diciamo che oggi noi possiamo dire che è sufficiente. Intanto abbiamo messo a posto in termini economici e finanziari un'azienda perché i nostri bilanci dal 2009 sono tutti, non producono debili. Noi oggi stiamo pagando solo i debili che abbiamo ereditato. Cioè in equilibrio e questo è certificato dalle banche e dalle società specializzate. Questo è inconfutabile. Questo è però il meno sentito abbiamo detto dalla Soralella. la Soralella vede il sacchetto. Però deve sapere che io per quel sacchetto percepisco dalla sua tariffa un importo. Non posso fare il sacchetto d'oro. Ecco, devo fare praticamente le attività. Allora, sicuramente garantiamo la raccorta tutti i giorni. Ecco, ma perdoni se l'interroppo ma in questi costi portare l'immondizia per esempio fino a San Vittore ha dei costi, no? Sono 80 km, 90 quanti sono? Sì, l'impianto l'hanno fatto io non l'ho fatto io lì. e se ce l'avessi avuto in casa... Ma guardi, io dico la sincera verità se noi oggi avessimo... Questa è un'azienda grande e diciamo per volumi è la seconda azienda d'Europa dopo Londra per differenziata è la terza dopo Londra e Berlino. Tanto parliamo di volumi non parliamo di cose astratte. se questa azienda avesse negli anni conquistato o in toto o parzialmente il controllo o comunque attività sul ciclo finale dei rifiuti avrebbe avuto delle entrate diverse dalla tariffa e avrebbe dovuto fare attività molto più adeguate. La differenziata dovrebbe essere un qualcosa che dovrebbe in teoria rendere soldi. Si dice che per esempio il compost di Maccarese nessuno lo distribu... nessuno lo vende fra virgolette perché sta là. Tanto è vero che noi ci siamo orientati all'aerobico l'aerobico produrrà circa 2 milioni e mezzo di redditi all'anno. Il compost non lo prende nessuno e di conseguenza è tutta la perdita. Però comunque intanto lo lavoriamo. Da una parte c'è l'ambiente e da una parte c'è la redditività e l'economicità. E noi dobbiamo mantenere in equilibrio questo. La raccolta differenziata in sé per sé non produce grandi quantità economiche anzi sicuramente non paga il servizio di raccolta. Questo andrebbe detto ad alta voce. Sì, no, questo non è che è solo per Roma in tutta Italia poi bisogna vedere dove va a finire questa roba. Oggi abbiamo dei dati che non tutto poi viene la materia prima diventa materia seconda. Tant'è vero che noi parliamo sempre che l'AMA si deve dotare di un sito di gestione del rifiuto nel rispetto delle norme nel rispetto dell'ambiente ma anche nel rispetto della proiezione della redditività perché essendo un'azienda che è un'azienda pubblica che deve raggiungere il pareggio di esercizio ma deve dare maggiore efficienza attività e un equilibrato rapporto costi benefici al cittadino a cui risponde essendo il suo cliente. Io vedo che i suoi collaboratori li fanno disperati scendi vorrei lasciarla libera ci piacciono queste parole che sono di economia e sono di oculata gestione e dovrebbero poi alla fine evitare di trasformare in cassonetto d'oro il cassonetto davanti a casa della signora Lella vedremo e osserveremo un po' tutti il nostro lavoro e il vostro lavoro Sicuramente ho trovato un personale i dirigenti che si sono dati da fare in questi anni si sono rimboccati le maniche hanno prodotto dei buoni risultati sicuramente chiunque lo ha detto non è paragonabile l'attività si porta sul territorio oggi a quella di tre anni fa questo lo possiamo dimostrare in tutti i sensi dove praticamente poi i volumi che scendi e quanto altro hanno un senso abbiamo fatto le ultime indagini di custom satisfaction dicendo sempre al cittadino cosa facciamo prima cosa veniamo chiamati a fare e lui ha dato risposte in funzione e i risultati sono stati molto miracoli non ne stiamo facendo forse stiamo cercando di attrezzarci grazie sembra la frase giusta per terminare signori arrivederci grazie